di perforazioni e drenaggi. Torniamo ancora nel capologo subalpino. Quattro nuovi defibrillatori sono stati installati in altrettante stazioni della metropolitana a Torino. Fermi, Porta Susa, Porta Nuova e Lingotto. Acquistati grazie all'avanzo di gestione del congresso della società italiana 118 che si è svolto a Torino, potranno essere utilizzati dagli operatori GTT appositamente formati. Prendo l'impegno, detto l'assessore alla sanità della regione Piemonte Antonio Saitta, affinché i defibrillatori possono essere al più presto in ogni ufficio.